Ben ritrovati anche questa settimana come consuetudine andiamo a delincare un po' a fare poi il punto sui top e flop della ventiquattresima giornata di campionato. Partiamo subito con la prima partita che ha visto il Lecce contro la Spal, il top, il migliore del Lecce, Mancoso, voto 11 e mezzo, il peggio è De Iola, voto 5, il migliore della Spal, Petania, voto 9 e mezzo, il peggio è Bonifazi, voto 4 e mezzo. Passiamo poi con Bologna Genoa, nel Bologna Svanberg, il migliore è voto 6, il peggio è Densville, voto 3, il migliore del Genoa, Somarò, voto 10, il peggio è Ankersen, voto 5. Passiamo poi ad Atalanta-Roma, il migliore dell'Atalanta è stato Pasaric, voto 10 e mezzo, il peggio è Gollini, voto 4 e mezzo, il migliore della Roma a Geico, voto 10, il peggio è Carles Perez, voto 4 e mezzo. Passiamo poi con Udinese-Elas Verona, del Udinese, il migliore è stato Musso, voto 7, il peggio è Alassane, voto 5 e mezzo, il migliore degli Scaligeri Gunter, voto 7, il peggio è Zacani, voto 5. Passiamo poi con Juventus-Brescia, il migliore della Juventus-Dibala, voto 10, il peggio è Ramsey, voto 5 e mezzo, il migliore del Brescia-Sabelli, voto 6 e mezzo, il peggiore Aie, voto 3 e mezzo. Passiamo poi con Sampdoria-Fiorentina, il migliore della Sampdoria-Gabianini, voto 9, il peggio è Murro, voto 3, il migliore della Fiorentina-Chiesa, voto 14, il peggio è Bade, voto 4. Passiamo poi con Sassuolo-Parma, il migliore del Sassuolo-Diuricic, voto 6, il peggio è Berardi, voto 4 e mezzo, il migliore del Parma, ritorna al gol, ritorna in squadra, col gol, Gervinio, voto 10, il peggio è Grassi, voto 5 e mezzo. Passiamo con Caleri-Napoli, il migliore del Caleri-Pellegrini, voto 6, il peggio è Ciopedro, voto 5, il migliore dei Portemopei-Mertens, voto 10, il peggio non nominiamo nessuno, visto che tutti quanti sono andati sopra la sufficienza. Passiamo poi con Lazio-Inter, il migliore della Lazio-Immobile, voto 10, il peggio è Lucas Leiva, voto 5, il migliore dell'Inter-Young, voto 10, il peggio è De Vrij, voto 4 e mezzo. Finiamo poi con il posticipo, che abbiamo visto ieri, il Milan vincente per 1 a 0 contro il Torino, quindi nel rossoniere il migliore è stato Rebic, il match winner, voto 10, il peggio è Paquetà, voto 5 e mezzo, i migliori del Granata, Lukic, voto 6, il peggio è Ansaldi, voto 5. Questo è un po' il punto, il sunto dei top e flop di questa 24esima giornata di Fanta Calcio, appuntamento con la nostra rubrica Il processo al Fanta Calcio alla settimana prossima e buon Fanta Calcio a tutti, mi raccomando seguirci sui nostri social, sul nostro sito internet, per rimanere sempre aggiornati sul mondo del Fanta Calcio. Ciao!